In questa sera ringrazio quindi tutti i sindaci che sono presenti. È stato presentato sabato scorso all'interno della Sala Consigliere di San Costanzo il piano sociale, frutto di un percorso partecipato e condiviso con oltre 60 soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli attori istituzionali. Alla giornata presenti i nove comuni tra sindaci e assessori che compongono l'ambito 6. Il piano sociale è lo strumento di programmazione fondamentale per la definizione delle direttrici di sviluppo del welfare territoriale da parte dell'ambito, ossia della gestione associata del servizio sociale dei nove comuni. A parlarci nel dettaglio è stato il presidente dell'ATS6, Dimitri Tinti. Il piano territoriale sociale è uno strumento importante per coprogrammare insieme perché io lo considero davvero un cantiere aperto. Non è un documento che è chiaramente risolutivo e non è neanche, come è inevitabile, visto che parliamo di sociale in cui i bisogni evolvono di continuo, non è neanche esaustivo. Quindi deve essere davvero visto come un processo in corso e grazie anche ai tavoli che si sono costituiti i tavoli diventano operativi. Quindi la coprogettazione si fa nei tavoli. Ad esempio, proprio in questo periodo è stato già riconvocato il tavolo dell'immigrazione con tutti i soggetti del terzo settore, proprio per cercare di gestire con la rete dell'accoglienza temporanea anche l'emergenza della questione ucraina. Quindi ecco, davvero questo è il senso di questo percorso, di questo piano che oggi presentiamo e io devo dire davvero grazie a tutti gli interlocutori perché come prevede la riforma del terzo settore gli interlocutori sono importanti e si parla appunto di amministrazione condivisa e si coprogramma insieme agli enti del terzo settore. Questa è davvero una grande rivoluzione vuol dire far crescere il territorio, valorizzarlo, tant'è vero che parlo e parliamo di welfare non più distributivo come è pensato, cioè un sistema che eroga contributi ma un welfare generativo capace di creare valore, capace di creare energie, risorse, opportunità e quindi una cultura nuova del welfare che vede una sinergia tra pubblico e privato sociale, quindi terzo settore. I contenuti del piano sociale e gli sviluppi futuri degli interventi sono stati esposti dalla coordinatrice della TS6 Roberta Galdenzi e hanno riguardato il potenziamento della domiciliarità degli anziani non autosufficienti, il luogo dell'ospitalità in struttura la promozione di forme di abitare supportato in favore dei disabili adulti la prossimità dei servizi alle persone, la formazione professionale congiunta degli operatori per la prevenzione e contrasto alla povertà educativa e infine la creazione di reti territoriali di servizi in favore dei giovani. Progetti che vanno verso quella direzione, quella di introdurre sempre di più in questo territorio innovazione sociale coinvolgendo appunto il terzo settore con la logica appunto della corresponsabilità perché il terzo settore investe, si sente partecipe e quindi è parte attiva di un percorso comune.